... ritardo, il treno regionale 11-233 delle ore 9 e 0-3, provvedente da Teginia e diverso a Teginia... ... ritardo, il treno regionale 8-24, provvedente da Teginia, che in 2016 di Pappertura e tiene un flacco, riportando il treno regionale 11-24. R bulloni 21-2, provvedente da Teginia Nordica per il treno regionale 11-24, provvedente da Teginia, che in un parto regionale 12-24, provvedente da Teginia.